Prima imparare, poi fare. È così che funziona. Prima di fare scelte, impara come scegliere. Coltiva la tua conoscenza su finanza, assicurazioni e prividenza. Pianifica e fai scelte su misura per te. Affronta con consapevolezza gli imprevisti e raccogli ciò che hai seminato. Cresci il futuro che ti piace per la serenità tua e dei tuoi cari. La BC della finanza. Conoscere dai suoi frutti. Grazie a tutti.